Ciao jacks ehi da ciao a in come va tutto posto? D'addio, d'addio Facciamo un po' di magia, facciamo un po' di magia, un po' di magia, tuo canale, è il mio canale questo, fai l'intra Saluto, ciao a tutti ragazzi sono aide come vedete torno con un nuovo video, oggi un ospite che non c'era mai stato sul canale la prima volta mai, mai Jack nobile, grazie, grazie mille, allora jack, ti piace come ho arredato lo studio, cacchio ma sai che non è per niente male Ah è carino vero, mi sono un po' ispirato al tuo, al mio, sì, c'è anche le stesse targhette, gli stessi premi, il stesso nome Sono il miglior canale family friend italiano, al mondo, al mondo, sì, il più, cacchio spettacolo, ti piace vero? Bella quella lampada, l'ho presa, lì l'ho presa da Ikea, ah no Jack ti chiedo, faccio un miracolo, fammi un miracolo, un miracolo solito, allora sai che quando sei qua sul canale devi fare un miracolo No, adesso faccio veramente una cosa stra stra potente, perché andremo ad eliminare 51 carte Ok Prima fisicamente e poi mentalmente Ah bene, sono pronto Facciamo un esperimento, ok? Inizio così a passare le carte, tu quando vuoi mi dici stop Stop Inizio ad eliminare Ok Faccio così e elimino ancora Stop Elimino Adesso è più difficile, divido a metà, destra o sinistra? Sinistra Elimino o tengo? Elimini Destra o sinistra? Destra Ed elimini Tre carte Toccanne due da eliminare Elimino queste due Quindi abbiamo eliminato 51 carte Ed ne è rimasta solo una Questo, stavolta l'abbiamo fatto fisicamente Adesso lo faremo mentalmente Ok Quindi ti chiedo se vuoi partire dalle figure o dai numeri? Dalle figure Perfetto Perfetto Dalle figure quindi sono Jack Donnare Giusto Jack Donnare È giusto Cosa elimini i Jack, donne o re? Elimino i re Rimangono donne e Jack Elimini le donne o i Jack? Le donne Perfetto Quindi siamo rimasti con i Jack Sì Rosse o nere? Dico Elimino i rossi Elimini i rossi Quindi siamo rimasti con Jack neri Sì Giusto? Sì Fiori o picche? Cosa elimini? Cosa elimino? Elimino picche Siamo rimasti con solo una carta Jack di fiori Il Jack di fiori Ora se qui ci fosse stampato il Jack di fiori Me ne andrei Potrei non fare più video Infatti se tu vedi Sull'unica carta che hai tra virgolette scelto Eliminando tutte le altre C'è stampato il Jack di fiori Esattamente tra il 10 e la regina C'è stampato Sì Che bellissimo questo gioco Sì Ti piaciuto? Forse è il mio preferito Però come hai fatto tu a scegliere questa carta Che è l'unica diversa E l'hai scelta tu dal centro del mazzo Come hai fatto rispetto alle altre se tu ci pensi? Ho escluso Ah è vero Sì E comunque ho scelto No no Ah sono tutte uguali dai Dimmi che sono tutte uguali Ho truccato il mazzo e ho barato Infatti sono tutte uguali con Sempre più bello questo gioco Però 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 Ho detto che Era un gioco di magia no? Tu hai pensato al Jack di fiori Che quello che prima era Una carta così Sapevo che sei un bastardo Ho sempre saputo Ora diventa Che figo Wow Thank you Grazie Grazie Thank you very much Avete capito voi? Assurdo Bello 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 Thank you very much Grazie zio Banda Jack Meno male Prima pensavo fosse proprio un gioco di merda Oh Jack grazie mille Mi hai devastato Grazie a te Ma non avevo dubbi Sei migliore Lo so lo so grazie E nulla Se vi è piaciuto come sei piaciuto Mi piace Commenti bla 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 Iscrivetevi al canale di Jack Che è quasi Ai 10.000 iscritti Tipo Sto facendo lo speciale 8.000 Stai facendo lo speciale Tu sei un contest E no Un giveaway È una sola cosa Un giveaway Vabbè L'hai fatto con la partner di Jack Sì esatto Bene raga Raga iscrivetevi al canale di Jack Che ho bisogno Raga iscrivetevi al canale di Jack Ve lo lasciami in iscrizione Ciao raga Ciao raga